buongiorno amici sono nel camper quindi camper terapia inizia una nuova avventura dopo un periodo molto difficile ma ce la possiamo fare quindi tre giorni tutti per noi oggi siamo in un posto bellissimo e vi facciamo vedere cosa facciamo noi eccole qua sono già in piscina appena arrivati voglio sapere quanto sei felice che sei qua da uno 10 10 ciao ciao Ciao! Grazie a tutti! Ti è piaciuto a Bole Blu? Sì! Ma dimmi un po', lì nel fiume come sei stata? Bene! E poi quando sei uscita cosa è successo? A Bole Blu c'è quel fiume che praticamente ti porta, ti fa stare a galla, no? Con la corrente! Con la corrente, ecco bravo! Tu avevi i braccioli, vero? Quindi non hai fatto tanta fatica! Ma sei stata poco male? Sì! Molto male! Cosa è successo al tuo stomacchino? Mi bruciava! Ok! Poi ho vomitato! Però poi ti sei ripresa, vero? Cambiamo meta! Ora siamo qua e presto non saremo più qua! Andiamo, salutiamo! Volevo dirmi... Sì, di mio amore! Volevo dire che mi sono divertita tanto! Ti sei? Divertita tanto! Divertita tanto? Ti è piaciuto? Volevo... Ti faccio vedere... Relax! Fresco, relax! Vai! Ok, l'ho partito bene! Ti prega, tagliti! Sei bravissima! Ho sprenato in tempo! Sono venuti a trovarci degli amici e abbiamo passato una bella, bella giornata Era tanto che non passavo dei momenti così belli e soprattutto sono felice che ho dormito tutta la notte Qui i nostri amici che fanno due passi con noi È una forza, vero? È una forza della natura e possiamo dirlo perché è veramente una guerriera senza uguali Esatto, senza uguali, brava! Un altro dentino che si dondola? Mamma mia, rimani completamente sdentato, eh? Eccolo! Vai! Cosa è successo? Un'ortica! Fa vedere! Fammi vedere! Guardate che tempo che sta avvenendo Nuvoloso E noi più tardi andiamo via Lei non aveva voglia di cioccolato, fa vedere Abbiamo preso un po' di cioccolato E vi volevo solo dire che mi hanno fatto proprio bene queste due giornate Mezzo al fresco Anche perché ero molto stanca e ho dormito tanto, tanto, tanto E mi ha proprio rigenerato Adesso vado a farmi una doccia, piano piano E più tardi andiamo a casa, vero Ele? Sì Andiamo a casa, amore? Sì Non sei contento di andare a casa, vero? Sei stato bene qua? Però ritorniamo presto, ok? Va bene? Sì Anche a me è un po' di... Lo so È malinconina Tristezza, malinconina, dai Però andiamo a casa Prossimo video Appa, al prossimo video Ciao 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 Ciao